Siamo anch'io. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male. È il luogo dell'aggressione. Ed è qui che hanno assassinato Joe Barket. No! Non voglio lasciarti sola. Me la caverò. Ho una cosa per te. Microcamera? Perché mi hai regalato una microcamera? Se non ci sei, puoi tenere d'occhio Lily. Come può un uomo che è morto da poco apparire in un video? Il mio figlio defunto e sepolto? Devi smetterla. Ritengo che dovresti farti aiutare. Voglio una risposta. Penso che si siano imbattuti in qualcosa di spropositato. la mia famiglia ha un conto bancario privato. Tu devi sopportare bene. Io l'aiuterò. Ti sembra di vederlo dappertutto. Tu hai visto il cadavere, Maya? No. Ho lasciato che se ne occupasse Judith. forse il preferito è falso. È morto. O ti ha presa in giro. Lui o qualcun altro. E l'aiutato. È morto. Puoi. E l'aiutato. Grazie a tutti